Il sole sorge alle 7.47 e tramonta alle 16.52. La luna si leva a mezzogiorno e tramonta a mezzanotte e 5 minuti. Durante il ducato di Pietro II Candiano, i veneziani estendono la loro influenza in Istria e in tale giorno tengono che Capodistria paghi un tributo di 100 anfore di vino all'anno in cambio della loro protezione e di alcune facilitazioni sul mercato di rialto. Le previsioni per domani. La classificazione in rotazione dai quadranti nord-occidentali molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione dai quadranti nord-occidentali in quota.